Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale E' una botte di video Già vi dico questo Parcchetto Maglia dallo A trampa Metto in selfie Vediamolo anche Spesso a vedere Parcchetto Lazio Di nuovo Abbiamo 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 Ok C'è la chia No Viene Vai alla razza Scusate la razza C'è Va bene Mo Scusate Scusate Va bene Nogledere Se lo succede Abbiamo Ci sono Scusate 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 C'è Scusate e poi andrò a cominciare l'altro l'azio bene ragazzi ci vediamo alle 9 e messo